Male, andava molto meglio in Piazza del Duomo. C'è scontento tra gli ambulanti che hanno trascorso il periodo del luglio pistoyese in Piazza San Francesco. Lo spostamento dei banchi da Piazza del Duomo nella sede estiva, come avevano ampiamente preannunciato gli stessi operatori, si è tradotto in una sorta di fiasco con una riduzione significativa del lavoro e quindi degli incassi. Alcuni hanno parlato di un meno 50%. Che le persone all'inizio non ti trovano, perché poi ogni volta devi riscegliere, quindi sei in un posto diverso. Abbiamo lavorato, non lavora nessuno qui in questa piazza, anche perché poi la gente chiaramente non ti ritrova. Qui è un mercato di serie B, perché la gente ce ne viene meno, i turisti non si vedano. Io ragiono solo con chi ha la partita IVA, tutti quell'altro, non arrivano a capire problemi di chi ha la partita IVA. A complicare il tutto il lavoro per la nuova pista ciclopedonale, che da qualche settimana è arrivato proprio in Piazza San Francesco. La settimana scorsa sono stati tutta la mattina a lavorare, sicché anche quello è un bel disagio, rumore, anche un po' di polvere hanno fatto. Tra gli operatori c'è però chi è rimasto soddisfatto di questa soluzione estiva. A me piace questo posto, mi crederebbe anzi stare più qui che in centro, perché siamo tutti appiccicati in centro. Pressoché unanime tra gli ambulanti che hanno voluto parlare, molti scontenti, hanno espresso un secco no comment, l'idea di portare tutto il mercato il prossimo anno, durante gli eventi del luglio, allo stadio. È molto meglio allo stadio. Sanno che quando c'è i dialoghi sull'uomo siamo allo stadio, quando c'è il luglio più stile siamo allo stadio, basta. Non potendo essere in Piazza Duomo, l'unica altra alternativa è questa, dare una continuità però. Se si va tutti allo stadio, allora siamo tutti allo stesso pari, capito? È meglio stare tutti uniti. Io spero che l'amministrazione, insomma, si metta la mano sul cuore, non si può pretendere che cento famiglie si spostano così senza, insomma, qui non lavora nessuno, ma poi basta guardarsi intorno, non ci vuole un ingegnere per capire che qui non si fa niente.